Siamo con D'Arsio Forgiarini, una vittoria facile per 6-1 contro il Giovinazzo, probabilmente resa tale dall'ottimo atteggiamento mentale messo in campo sin dall'inizio. Sicuramente, non è entrato in campo oggi per fare la nostra partita. Cominciamo bene, entriamo in campo con la testa giusta e facciamo tre gol lì nel primo tempo che penso che è finita la partita lì in quel primo tempo. Per un portiere passare magari da un 6-0 subito ad un 6-1 inflitto all'avversario magari oggi sicuramente fa piacere questa partita, però come spieghi l'alternanza di questi risultati che ogni tanto vi contraddistingue? Sicuramente è brutto, magari ha fatto un atteggiamento male in quella partita di Coppa Italia, però noi dobbiamo pensare ogni sabato a ogni partita perché ogni sabato è una battaglia diversa. E adesso dobbiamo, anche per noi, vincere tutte le partite e pensare solo di noi e aspettare e vedere cosa fa Policoro, perché adesso bisogna anche che loro perdano. E' così, ogni sabato per noi sarà una battaglia. Ritornando al campionato, il girone di ritorno è iniziato con tre vittorie consecutive. Ora si va a Venafro, una partita come te l'aspetti quella di sabato prossimo? Sicuramente sarà una altra partita. No a Venafro è presa una altra due giocatori, nel mercato da dicembre. Penso che sono più forte che prima, sono più forte che dà l'inizio del campionato. Vediamo come ti l'ho detto, dobbiamo ogni sabato entrare con la testa justa. Se noi molare un centimetro, succede qualcosa. Grazie a tutti.